E' io oggi qui con un nuovo video ragazzi, io sono Cree e noi siamo tornati su EF2024 per una delle ultime volte che siamo su EF2024 effettivamente Devo capire bene quando è scelto questo video perché potrebbe essere l'ultima volta ragazzi eh Eh si ragazzi, questo è l'ultimo video, questo è l'ultimo video, l'ultimo video su EF2024, su questa versione Mamma mia, un po' mi dispiace eh, dall'altra sono contento sperando sempre che migliori Anche se è una speranza un po' così, trasandata, ormai sono tre anni che speriamo migliori Forse ha fatto qualche passettino in avanti ma millimetrico Quindi vabbè, non soffermiamoci su sta cosa, poi ne riparleremo appena esce il gioco nuovo In questo momento dovrebbe esserci manutenzione del gioco, però lo sto preregistrando quindi non vi so dire Quest'oggi cosa vi fa venire in mente questa maglietta che è della finale di Champions dell'Inter Milito non ce l'ho ovviamente, Zanetti non esiste nel gioco quindi l'unico riconducibile Oltre a Snyder che abbiamo già provato in tutte le salse È Samuel Leto ragazzi, Samuel Leto che è in panchina e perché è in panchina? Perché lo proveremo partendo dalla panchina? Perché gli ho messo riserva di lusso Non solo l'ho messo anche colpo di testa, tiro di collo e lancio lungo Lancio lungo non è il passaggio ma è tiro dalla distanza È sbagliata la traduzione di Konami però è il tiro dalla distanza quindi per quello gli ho messo lancio lungo Ma soprattutto ci soffermeremo sulla riserva di lusso perché entrerà dopo il sessantesimo Se riusciamo a farlo entrare dopo il sessantesimo Con queste statistiche l'ho anche ribildato Non penso ci sia altro da aggiungere ragazzi Sono curiosissimo di provarlo al secondo tempo Primo avversario di quest'oggi Tanto mi sto rigenerando mangiando qualcosina Ok direi che possiamo andare così ragazzi con la titolare Questa è la scuola del nostro avversario Affrontiamolo Inizia così ragazzi Prima partita di quest'oggi Lui è una difesa 5 molto molto difensivo Bellissimo Bellissima azione Ronaldo davanti al portiere CR7 1-0 Non sbaglia La prima occasione utile Arriva il Sium Ottavo minuto E 8 secondi Mamma mia Bella azione Gran bella azione Gran bella ripartenza Comunque contando che è così difensivo Con la difesa 5 Un buon centrocampo Già andare in vantaggio non è ma... Oh 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 Che è sto lag Mamma mia che azione Qui il passaggio avanti Ancora per Ronaldo 2-0 Gran bella assist di Kylian Mbappé E gran bella azione Ancora una volta Mamma mia Cos'è? Mi stavo fomentando Per il contrasto Che ha eseguito De Vrij Invece no Fallo Non si sa per quale motivo Forse per provare a fargli fare un gol Mamma che ripartenza signori Mamma che... Non ci credo Ancora Dixon Ancora il passaggio in mezzo Per Totti Che non trova spazio E poi Totti se lo crea Lo spazio E guadagna anche un calcio di punizione Pericolosissimo Non ho un battitore ragazzi Non ne ho uno Beh Vado con Ronaldo ma Prova a farla passare sotto O a darla lì In realtà Ah C'era già spostato Scemo io Scemo io Madonna cosa ha preso Madonna il palo Qui altra ripartenza Assurda Con Messi e Ronaldo Ancora Il passaggio per Ronaldo La palla rimane lì La recupera Totti Con un fallo Per l'arbitro Con un fallo Poi Non si sa dove l'abbia visto Ma è fallo Mamma mia Che azione ragazzi Comunque una partita Egregia Finora l'ha fatta Federico Valverde Che è tutto suo E in realtà L'ho messo Per il caposaldo Che è utilissimo Cioè ne stava per fare un altro ragazzi Eccolo qua Valverde Ne stava per fare un altro Ne stava per fare un altro Abbiamo preso il secondo palo di quest'oggi Anche quest'oggi Strik Intatta Debrai Sponda in mezzo Ci arriva di testa Guarda C'è questo Ha spazzato in porta No non ci posso credere No non ci posso credere Non ci posso credere Madonna che cazzo Stiamo vedendo Signori Cosa cazzo Stiamo vedendo Cosa cazzo Stiamo vedendo Terzo pallo di fila Nella stessa partita E nonostante ciò Stiamo vincendo E poi è successo È successo il putifè È successo il finimondo Sì ma non puoi lasciare tutti sti spazi In difesa Non esiste Non esiste Perché poi Eh poi niente Poi si gira Ronaldo Ho dovuto far fallo Perché è 71 Ragazzi la palla non esce Se no E tu non lo vediamo più Davvero Sono stato costretto A far fallo Per fermare il gioco Ha fatti i cambi ragazzi Eh Penso si fosse capito Questo è Stoico Passaggio avanti Mamma mia Che passaggio Per Chiesa Che si accentra E non sbaglia 3 a 0 Federico Chiesa Gran Bella Ripartenza È arrivato ragazzi È arrivato Il rage quit La prima partita Di giornata Ce la portiamo a casa Va benissimo Gran bella partita Soddisfa Non ha avuto modo Di fare nulla All'avversario Andiamo alla seconda Secondo avversario A frecce Si è messi bene Si è messi bene E vi dico Andiamo con Gilberto Andiamo con Gilberto Stoicov tutto su Stoicov tutto su Mi intriga Ma non metteremo A secondo tempo Dici piazzerei anche Una bella riserva di lusso Come Girù Come Girù Stessa cosa Quindi niente Andiamo così Questa è la squadra Del nostro avversario Affrontiamolo Inizia la seconda Partita Di Quest'oggi Forse Se ha voglia Non lo so eh Non lo so se inizia ragazzi Non lo so se inizia Non inizia Non inizia Aspettiamo tutti i secondi Come abbiamo aspettato Tutti i secondi Prima dell'inizio Della partita Ce l'abbiamo fatta? Sì o no? Ce l'abbiamo fatta Mamma che tiro ragazzi Che cazzo di botta Che ha tirato Franceschino Totti Er pupone Che ci porta Sull'1-0 Anche se poi Il gol è su ribattuta Di Lionel Messi Messi e Ronaldo Che si abbracciano Ragazzi è il sonno Di ogni essere vivente Sulla faccia della terra Attenzione perché qui c'è un erroraccio Il passaggio di Ronaldo Per Messi Che prova a piazzarla Poi la palla rimane lì Ancora Totti Ne dribbla 1 Questa è cazzo Oh Oh Ragazzi ma questo è rigore In 800 mondi diversi In ogni mondo Di ogni generazione Di ogni multiverso È rigore netto Ma stiamo scherzando Cioè Totti l'ha mandato al bar Gli ha tirato un calcio Sulle caviglie Non è rigore No sono senza parole ragazzi Sono senza parole Mamma l'inserimento ragazzi Di Mbappé ma Che cazzo aveva fatto Mbappé Poi ogni volta ovviamente Il portiere deve fare Superman Parata impossibile Lui ci arriva Qui devrai Buona posizione per fare la sponda Poi la palla rimane lì Forse era meglio Non provarci Ancora la sponda Di De Vrij Ancora in mezzo Non ci arriva nessuno La palla rimane Un'altra volta lì Ci riproverei Stavolta Dixon Bella parata All'inizio pensavo fosse Totti Per quello ci ho provato Poi ho letto sotto Ormai avevo tirato Ho detto va bene dai Proviamoci No però Ho schiacciato 8 minuti fa Ho schiacciato 8 minuti fa Ho schiacciato 8 minuti fa Dovevamo prendere gol L'abbiamo preso Alla fine Ovviamente E ragazzi Bell'assedio eh Bell'assedio 1-1 È un'inculata clamorosa 1-1 a fine primo tempo Vediamo come finisce la partita Mamma mia Mbappé Ti prego Mbappé Ti prego Non ci credo Oddio santo Una delle prime volte Ragazzi che vedo Una ribattuta Porta libera Un pelo angolata Che non vada fuori Perché la buttano sempre O fuori Oppure calamitata sul portiere Stavolta no Stavolta no Doppietta di Messi Ragazzi Entrambe su ribattuta Entrambe su ribattuta Ma poi sono gol meritate Nell'effettivo Attenzione perché Qui c'è un errore Dell'avversario Poi c'è Messi Può centrarsi A tutto lo spazio Ancora Messi Il passaggio Era per Ronaldo Il passaggio era per Ronaldo Libero dietro Era praticamente chiusa La partita 3-1 E invece no È riuscito È riuscito a sbagliare Lo stesso Brutto tiro Brutto tiro Brutto tiro Oltretutto Il 74esimo Sto aspettando Di far entrare Eto' Niente da fare ragazzi La palla non esce Non si riesce neanche a far fallo Non si riesce a segnare Non si riesce a chiudere Quindi Non so neanche a sto punto Se riesce ad entrare Eto' È l'85esimo Che cazzo mi entra a fare Non lo so Non lo so sinceramente È uscita la palla ragazzi All'86esimo Ho messo pausa Al 62esimo Non ci credo L'ha lisciata tutti eh Tutti Messi aspetta la palla ragazzi Non può correre La palla va a due all'ora E lì Ha perso un minuto Per aspettare la palla Vabbè Finisce così 2-1 Eto' Non è neanche toccato la palla Peccato Però Vabbè Nel complesso è andata bene ragazzi Abbiamo meritato la vittoria L'abbiamo visto poco L'abbiamo visto poco Perché L'abbiamo visto davvero davvero poco Ragazzi Eto' Però Vabbè Ci siamo portati a casa due vittorie Poi l'ultimo video Sia della season Sia del Del gioco Del gioco Quindi Questo video lo dedico a Eto' Diciamo addio Ai football 2024 In onore di Eto' In onore di lui Anche se la maglietta non è di Eto' Ma vabbè Perché Perché Un grandissimo Una grandissima carta Avremo occasione Di provarla In altre In altre situazioni In altri momenti Sicuramente lo sfrutteremo meglio Comunque Con questa riserva di lusso Visto che partiva comunque Sempre dalla panchina È una cosa in più Che può aiutare Può aiutare davvero Farlo rendere Ancora Ancora meglio Quindi ragazzi Incrociamo l'Iita Per l'aggiornamento Speriamo in bene Ci sentiamo presto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivedremo In un prossimo video Nel nuovo gioco Ciao a tutti